La Proloco di Campo nell'Elba ha inaugurato la sua sede. Gli uffici di questa neonata associazione, voluta fortemente dai cittadini, dalle associazioni e dalle categorie economiche campesi, sono stati ufficialmente aperti al pubblico sabato pomeriggio scorso, con una breve cerimonia nel corso della quale la popolazione e le autorità sono state invitate a entrare nei locali della nuovissima sede posta in via Pietri a Marina di Campo. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato il presidente della Proloco, Vincenzo Gorgoglione. Abbiamo finalmente la nostra sede e il nostro grazie va a tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione concreta di questo progetto. A tutti, ha ribadito il presidente, un grazie di cuore. Durante il pomeriggio un brindisi ha aperto i festeggiamenti, poi il taglio della torta eseguito dal presidente della Proloco insieme al sindaco del comune di Campo nell'Elba, Vanno Segnini. Tanta la soddisfazione della gente per questo evento al quale erano presenti privati, aziende, associazioni e istituzioni del territorio. La sede, spiega Gorgoglione, si compone di due stanze principali, la prima dedicata alle attività di ufficio e per le riunioni, la seconda subito adiacente adibita ad attività di front office con il pubblico per informazioni e servizi. Adesso, conclude Gorgoglione, siamo pronti a partire e a svolgere a pieno la nostra attività sul territorio. Grazie a tutti.